C-Web è un'azienda che si occupa principalmente di servizi di cloud computing di tipo infrastrutturale e C-Web è stato il primo operatore, la prima azienda italiana a vendere un servizio di cloud computing in Italia. Una delle caratteristiche principali di SAP Business One è la sua potenza nell'elaborazione dei big data. Ci consente rapide elaborazioni, rapido accesso ai dati e una facilità di predire i comportamenti futuri sia dei nostri clienti che del mercato. SAP Business One è una sorta di linguaggio internazionale e questo ci semplifica tutte le operazioni di consolidamento che sono necessarie per un'azienda quotata in borsa.